Il ministro Catalfo ha iniziato i primi incontri con i sindacati per modificare da una parte quota 100, dall'altra la Fornero. Quali sono le proposte di Anief? Innanzitutto chiediamo di non allontanarsi dall'Europa. In Europa si va in pensione a 63 anni, nel pubblico impiego si va a 67 con la Fornero. Quindi non capiamo per quale motivo ancora ad oggi i dipendenti pubblici debbano essere quelli penalizzati, quelli italiani rispetto ai loro colleghi europei. Quindi sicuramente bisogna modificare la data di vecchiaia perché non è questa età a 67 anni, non è giusto. E poi per il personale della scuola è necessario, anzi diremmo obbligatorio, andare all'interno della commissione che si insederà per andare a vedere i lavori gravosi, ma anche quelli a rischio burnout, andare finalmente a valutare lo stress da lavoro correlato che avviene specialmente nel campo della didattica, ma in generale nel campo della scuola, sia per il personale docente che per il personale ATA. Quindi con delle finestre apposite che devono agevolare il pensionamento. Già a partire da 60 anni riteniamo che il personale della scuola debba andare in pensione senza penalizzazioni e comunque fare anche un lavoro che non necessariamente deve essere legato alla didattica rispetto a queste età anagrafiche raggiunte. Ci vuole una maggiore flessibilità. Pensiamo anche in passato come Anif abbiamo presentato degli emendamenti per esempio per equiparare gli stessi requisiti del personale della scuola a quello per esempio delle forze armate, della polizia. E quindi sono delle proposte però fondamentali perché abbiamo la classe, specialmente per la parte dei docenti, ma anche per il personale ATA, abbiamo la maggior parte degli insegnanti, è over 50, è la classe più vecchia al mondo. E quindi abbiamo bisogno di un ricambio anche generazionale, abbiamo bisogno anche di tutela della salute nei luoghi di lavoro. Grazie. Grazie.